200 pagine, 13 capitoli, quasi 80 illustrazioni, tutto concentrato in un prodotto editoriale innovativo che sorprende il lettore tra poesia, prose e disegni. Si tratta di Che spasso nella città invisibile, libro scritto dal termolese Antonio Andriani, con le illustrazioni affidate al figlio Jacopo, 15 anni, e la passione per i fumetti e per quel benito Iacovitti che studia nei libri a liceo artistico. Pubblicato da Arnoldo Editore da circa un mese in librerie ed è possibile trovarlo anche sotto forma di e-book. Il volume, che racconta il viaggio in una termolio un po' magica, tra presente e passato, con personaggi reali e inventati, è stato presentato nella sede adriatica dell'Università del Molise, dal presidente dei corsi di laurea sul turismo Rossano Pazzagli e dal sindaco Angelo Sbrocca. C'è un turista, Ermenel Gildoa, che vive un'incredibile avventura tra i bastioni, il parco, la stazione e il castello. Ci sono i luoghi cari all'autore, come il Convento delle Suore, l'Arcivescovado, la piccola chiesa di Sant'Anna e il Duomo. Il viaggio inizia nel 2014 e finisce nel passato, alla fine del 1800, quando la città era diversa, il borgo a strapiombo sul mare. I personaggi sono liberamente ispirati anche a uomini reali dell'epoca, come lo Iacovitti Bambino, che guida il turista Ermenel Gildoa nella città invisibile. In copertina proprio un disegno di Jacopo Andriani, con la cattedrale di Termoli trascinata da una lumaca. Una trama avvincente, ricca di aspetti religiosi e culturali dell'Ottocento. Un testo bello e divertente, utile per aprire lo sguardo sulla città da un altro punto di vista.